Continuano a crescere i contagi nella provincia di Salerno che fa registrare un altro decesso per Covid-19 a perdere la vita una persona di Brasigliano. 19 nuovi positivi in 24 ore nel comune, preoccupazione anche a Eboli dove il risultato positivo. Un bimbo di 3 anni, il piccolo che frequenta la scuola dell'infanzia del Molinello era tra i pochi tornati in classe nei giorni scorsi dopo la ripresa delle attività in presenza. Non presenterebbe sintomi preoccupanti. Tre dei suoi compagni e le maestre sono stati posti in quarantena mentre incilento e allarme per un focolaio sviluppatosi all'interno di una casa di riposo per anziani. Diversi positivi tra i degenti e gli operatori. Il contagio potrebbe essere partito proprio da un dipendente ricoverato al San Luca di Vallo della Lucania uno degli ospiti. Nell'agronocerino intanto al via la campagna di vaccini per i dipendenti del consorzio di bonifica. Era giusto fare il tampone a tutti gli impiegati in modo che potessimo tornare all'agibilità e insicurezza dell'ente e dei cittadini che ovviamente usufruiscono dei servizi del consorzio. Quando ci sarà la possibilità sicuramente noi saremo in prima fila per vaccinare i nostri impiegati operai.